In questo video andremo ad imparare a calcolare la giacenza media di periodo. È un calcolo che faremo con PowerPivot di Excel, quindi utilizzeremo il DAX, e la stessa identica metodologia è applicabile anche in Power BI, pari pari uguale, perché le formule sono compatibili sia in Excel che in Power BI. Allora, prima di andare a sviluppare tutte le formule e vedere i risultati, capiamo anche che cosa si intende per giacenza media, per chi non fosse chiaro questo tipo di calcolo. Io qui ipotizziamo che ho una serie di giorni, quindi ho ad esempio il conto corrente, perché questo è un calcolo che generalmente fanno le banche, il giorno 1 ho una giacenza di 100€, mi sono entrati 100€ sul conto, il giorno 4 me ne entrano 300, il giorno 7 tiro fuori o pago qualcosa, quindi perdo 150€ e così via. Quindi se io vado a fare la media dei miei importi, entrate e uscite, ottengo 125, che è questa appunto la media dei miei importi, ma non è la media sulla giacenza media di periodo. Quindi per fare la giacenza media di periodo, dobbiamo andare a creare prima di tutto un cumulato, o running total, se lo vogliamo chiamare in inglese. Il running total che cosa fa? Prende la mia giacenza e la spalma su tutti i giorni finché non trovo un nuovo importo. Quando trova il nuovo importo lo somma o lo sottrae in base al segno positivo o negativo, quindi vado a creare questo cumulato di periodo. Quando andiamo poi a fare la media sul mio cumulato, ottengo effettivamente la mia giacenza media. Difatti se vediamo sotto ho fatto sempre la media su questo periodo, ma così ottengo la giacenza media di periodo. Significa che gli importi che ho inserito nel mio conto corrente entrate e uscite, di media su questi 10 giorni ho avuto 275 euro sul conto corrente come media giorno per giorno. Allora, per andare a calcolare questa cosa possiamo farla in più modi, possiamo ottenere il risultato che cambia in base a come lo desideriamo ottenere. Quindi adesso faremo, cioè alla fine si fa con una formula sola, però ne faremo 3-4 in modo che vediamo anche i tipi di cumulato che si possono andare a creare e poi i tipi di giacenza media che possiamo andare a creare. Allora, qui che cosa ho fatto per partire? Ho creato un modellino di dati, quindi se andiamo nel menu PowerPery, gestisci. Che cosa ho creato? Ho creato una tabella dei fatti, dove ho la mia data e la mia giacenza, e ho la mia tabella del calendario dove vado a connettere il campo data. Per poter fare questo tipo di calcoli è importante sempre avere una tabella di time intelligence come questa. Adesso io l'ho sintetizzata con giusti campi che mi interessavano. Però è importante avere sempre una tabella del calendario, perché? Perché la tabella del calendario ha sempre tutte le date compilate. La tabella dei fatti può non avere i dati compilati. Difatti se vediamo la vista dati, io ho ad esempio questi giorni qua, adesso magari ordiniamo questo così capiamo meglio. Vedete che ho dei buchi, quindi qui io ho il 2 gennaio, poi ho il 6 gennaio, il 9, quindi non è sempre compilata e posso avere dei problemi. Anche perché poi se devo andare a calcolare il mio bel run in total, se non ho tutti i giorni non potrei andare a calcolare questi due slot, perché appunto la tabella dei fatti non ha queste informazioni. Quindi è sempre importante portarsi in modello la tabella del calendario. Come ho creato queste due tabelline? Andiamo molto velocemente a vedere che cosa ci sta dietro. Sono andato in Power Query, ho fatto semplicemente due query vuote. Sulla prima ho compilato un po' di dati che mi sono fatto creare dall'intelligenza artificiale per non perdere tempo, giusto per parlare un po' anche di intelligenza artificiale e quanto può aiutare. E qui ho creato semplicemente una tabella del calendario dove sulla source ci sono dei parametri che mi tira fuori praticamente un po' di anni. parte dal 2020 e va avanti per l'anno corrente e l'anno successivo, se non ricordo male. E qui con qualche passaggio applicato ho semplicemente inserito i vari attributi che mi possono servire nel calcolo. Ok, questa è la nostra base di partenza. Allora andiamo a fare il nostro bel run in total. Prima di tutto, guarda, mettiamo giù la pivot, quindi andiamo ad esempio qua e facciamo la prima pivot. Facciamo un bel inserisci, tabella pivot, modello di dati. E la voglio creare qua. Allora, abbiamo detto che ci tiriamo giù la data nelle righe, ci tiriamo giù anche l'anno e anche il mese. Facciamo che stacchiamo questa che così ci vediamo meglio. Ok, e poi ci dobbiamo tirare giù la giacenza prima di tutto, quindi non tiriamo giù questo campo che poi si crea una misura implicita, andiamo a creare la nostra formuletta. Quindi qui andiamo sotto, andiamo sulla tabella di fatti o dove preferiti, insomma. E qui vado a creare la mia formula, quindi s giacenza. Adesso facciamo anche un po' di zoom. E qui creiamo la somma della nostra giacenza, quindi facciamo una funzione di aggregazione che calcola la somma della mia giacenza. Così poi la utilizzeremo anche sulle altre funzioni. Qui andiamo a formattare il nostro risultato, eccolo qua. Se adesso andiamo di qua, troviamo appunto la fx, la prendiamo e la tiriamo dentro. Ecco che ho ottenuto la mia giacenza. Andiamo a formattare un po' la pivot, che così diventa più leggibile, lo mettiamo con questo tipo di formatazione. Ok, questa è la mia giacenza. Se chiudo l'uno, ovviamente mi fa il totale sul mese. Quindi adesso andiamo a calcolare il running total, quindi qui compariranno tutte le date dove il running total viene calcolata, perché in questo momento la funzione che ho tirato fuori ragiona solo su questi attributi, perché nella tabella di fatti sono presenti questi attributi. Il running total ci deve fare il cumulato, quindi quella funzione permetterà alla tabella degli attributi di spaccare tutto il calendario. Adesso andiamo a vedere proprio nell'esempio. Running total lo calcoliamo in due modi. Allora, andiamo prima col sistema più semplice che tendenzialmente si usa di più. Running total. Facciamo la RT, che chiamiamo i nomi di campi e brevi. Facciamo l'ER, lo chiamiamo così. Annual. E facciamo un bel calculate. Ti prendiamo la misura che abbiamo fatto poco fa, quindi la S, giacenza, quindi è la somma della giacenza, quindi non vado a ripetere la sum, giacenza dei fatti, no. Riprendo la misura che ho già calcolato. Poi faccio un bel punto di virgola, perché ovviamente siamo in Excel, se siete in Power BI e posto un punto di virgola, ci mettete la virgola. E qui gli dico dates year to date. Questa cosa va a calcolare il cumulato in automatico. E vediamo che cosa succede quando lo prendiamo. Prendiamo la data del calendario, dobbiamo cablarla sulla data del calendario. È importante questa cosa, deve ragionare su tutte le date del calendario. perché se prendiamo quelli dei fatti, ha sempre i buchi, non ci calcolerebbe il running total nel modo che a noi serve. Quindi chiudiamo la nostra bella funzione e andiamo a formatarlo come abbiamo fatto prima. Eccola qua. Allora, tiriamolo giù e guardiamo il risultato. Se prendiamo il running total, vedete che adesso ha aperto tutto il calendario quando l'ho inserito, e qui mi sta ripetendo il numero su tutte le date e quando cambia la data va a sommare. Ok? Ecco qua il nostro risultato. C'è il negativo e qui torna indietro. Perfetto, abbiamo calcolato il nostro running total. Adesso facciamo subito la giacenza media e poi vediamo un altro sistema per andare a fare i nostri calcoli. La giacenza media, potremmo fare la giacenza media, year, perché la basiamo su running total del year. Dopo capite perché ci ho messo anche il year. Allora, qua dobbiamo aprire una funzione che va ad iterare riga per riga il nostro risultato. Quindi dobbiamo fare un average. Average x. Quando utilizziamo una funzione con la x significa che vado ad iterare la tabella che andrò ad esprimere nel parametro table perché vedete che la x dire sempre di iterare il calcolo nella tabella. Quando ho iterato il calcolo riga per riga poi va ad eseguire il calcolo sul totale che ha come risultato e quindi ci va fatta l'espressione. Allora, qui che cosa andiamo a fare? Andiamo, dobbiamo, la difficoltà qui qual è? E dobbiamo andare a prendere il nostro running total per intero. Solo che se io qua mettessi la tabella di fatti che voglio iterare la tabella di fatti la tabella di fatti non ha tutte queste date che vengono esplose dal running total. Quindi andremo a creare una media classica perché se la basiamo sulla tabella del calendario andremo a prendere questa cosa qua. Non possiamo neanche andare a cablarla sulla tabella del calendario. Ok, infatti i calendari non vanno bene perché anche la tabella del calendario ha tutti i dati e non riuscirebbe comunque a calcolarlo nel modo corretto. Dobbiamo creare una tabellina customizzata. Dobbiamo considerare il campo data quindi che cosa facciamo? Andiamo qui facciamo un bel values e qui ci mettiamo dentro il campo data di un calendar. Che cosa succede? Da questa funzione io vado ad estrarre il campo data in modo distinto che è già distinto sulla tabella del calendario ma lo tiro fuori in modo distinto da qui e ottengo solo questo campo come risultato quindi avrò una tabellina con questo campo. Poi a fianco a questo campo che cosa ci vado a creare? Vado a metterci semplicemente il running total. ci mette il running total year. Perfetto. Sta cosa qua che cosa fa? Chiudiamo la tonda. Lui va a creare una tabellina con tutte le mie date presenti nella tabella del calendario che sono sempre tutte consistenti. A fianco ci mette il running total quindi va a creare proprio una tabellina con questa colonna e questo risultato. Dopodiché quando lui ha calcolato questo risultato questa tabellina con il risultato running total affiancato va a fare la media ed ecco che così noi otteniamo la giacenza media. se andiamo a premere invio la formattiamo se adesso ovviamente la tiro giù così non vedo un risultato perché ho la data che rompe le scatole che è qui in mezzo quindi se adesso facciamo così e le coloriamo così dopo le identifichiamo che è meglio prendiamo ad esempio questa la mettiamo in verdolino. Adesso prendiamo un'altra pivot la mettiamo qua a fianco ci chiediamo questo anzi lo ritiriamo fuori tiriamo via la data che non ci interessa ok e chiudiamo il nostro risultato se vedete in alto destra qui c'è il 1873 che è esattamente la giacenza media del nostro periodo del mese 1 se selezioniamo il periodo del mese 1 del running total e guardiamo in basso che cosa ci dice la media ci dice esattamente 1873 se andiamo ad osservare il secondo record sul mese 2 mi dice 4224 ma se io vado a selezionare dal mese 1 fino alla fine del mese 2 qua giù mi da 3042 quindi non sta calcolando la giacenza media in questo modo nel modo in cui l'abbiamo scritta in questo momento va a calcolare la giacenza media mese per mese perché lui qui ha un attributo che va a seguire lui segue questi filtri qua ok riga per riga lui segue questi filtri e li insegue quindi lui sta prendendo il cumulato da inizio di febbraio arriva fino alla fine di febbraio e mi da 4224 ed eccolo qua se invece vado a chiudere l'anno vado a seguire questo attributo mi da 17126 se io vado appunto a selezionare tutto il periodo del mio anno andiamo fino in fondo mi da esattamente quel 17126 quindi questo è un primo modo per andare a calcolarlo ora andiamo a fare una modifica e vediamo come cambia il ragionamento sul running total e la giacenza media che abbiamo calcolato in questo momento andiamo qui su power pivot entriamo sul calcolo del running total e a posto di fare datasi year to day che ovviamente fa il cumulato da inizio anno fino a fine anno e poi ricomincia da capo perché con questa funzione se andiamo giù e vediamo l'anno successivo lui fa il running total fino a qui poi riparte da capo e ricalcola il running total invece lo voglio fare mese per mese quindi il running total si ricalcolerà ogni singolo mese se andiamo qui e ci mettiamo al posto di year to day ci mettiamo il month to day potrei farlo anche per quarter per dire faccio un invio e vengo qua vedete che adesso cambia la cosa vado a calcolarlo mese per mese il running total va 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 fino qua giù arriva a fine mese e poi ricomincia da capo dal mese successivo a questo punto ok che cosa succede io appunto qui ho la mia somma del running total mese per mese e qui ho la giacenza media mese per mese calcolata sulle movimentazioni che ci sono state sul conto corrente su quel singolo mese che sto andando ad analizzare quindi questo è un altro modo per calcolare la giacenza media se chiudo l'anno va a farmi ovviamente una media sull'anno mi fa 1890 se vado a prendere il mio running total arrivo giù fino a fine anno che cosa succede mi dà appunto 1890 vedete che cambiando la funzione è cambiato completamente il tipo di risultato che andiamo ad ottenere dipende sempre molto da quello che vogliamo avere facciamo ancora un altro esempio andiamo qui e facciamo un running total nuovo allora mi copio la formula per semplicità e chiamiamolo running total al posto di year lo chiamiamo globale globale qui facciamo sempre il calcolo e con la giacenza adesso qui andiamo a capo che così andiamo a sistemare un po' meglio la formula visto che diventa un po' più lunghetta e qui che cosa succede al posto del dates month to date o year to date andiamo a togliere questa cosa e ci aggiungiamo una funzione filter all'interno della funzione filter vado a metterci all selected e ci metto la mia data chiudo questa cosa adesso ve la spiego un po' meglio faccio un punto e virgo e gli do il parametro alla funzione filter quindi anche qua andiamo a capo facciamole fatte bene belle formattate e gli dico data data del mio calendario minore uguale di max data del mio calendario ancora qua ok la funzione è questa allora all selected che cosa fa? prende tutti i filtri dell'utente quindi lui sente tutti i filtri dell'utente ma scarta tutti gli altri che cosa significa questa cosa qua? che allora io sto andando a filtrare una tabella quindi vado a calcolare la mia giacenza ok sommo la mia giacenza eseguo questo calcolo partendo da una tabella che è compilata in questo modo prendo per ogni riga seleziono la tabella la colonna data della dim calendar e prendo tutti i filtri che l'utente ha fatto in giro per la pivot o sugli slicer ma tutti quelli che sono in pivot quindi questi parlo di questi valori qua lui non li sente e li va a scartare con il selected e poi gli do quindi questa è la tabella con cui va a lavorare come sente il filtro della tabella che deve lavorare e qui gli dico semplicemente prendi il campo data ok mi prendi tutti i record del campo data dove sono minore o uguale di max di data ok quindi che significa che quando io sarò qua lui prenderà tutti i record che sono 0 2 0 1 oppure 0 1 0 1 se sono qua prenderà tutti questi record qua e andrà a fare la somma ok questa è una forzatura che io ho dato se adesso io prendo il mio running total globale aggiungiamo anche una colonna qua che sennò diventa che poi si schiantano quindi prendiamo questa lo aggiungiamo lo aggiungiamo qua e lo aggiungiamo anche qua che così vediamo il risultato questo magari lo coloriamo in un altro colore ce lo mettiamo magari in blu così lo distinguiamo se andiamo a vedere come ragiona adesso questo running total lo vedete già anche qua dall'aggregazione quindi quando arrivo a fine anno lui non va a ripetere poi con l'anno nuovo il running total che riparte da 0 no lui va avanti all'infinito ci siamo anche dimenticati di formatarlo vediamo qua facciamo il puntino così adesso si formatta vediamo scoriamo 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 e vediamo appunto che lui continua quindi io il mio running total lo vado continuamente ad aumentare ovviamente se io qui vado a fare un filtro ci tolgo il 22 che cosa succede? ecco il mio risultato quindi vedo esattamente il mio running total che comunque parte da dove era quindi da dove ci sono i dati lui continua a calcolare il mio running total allora se adesso andiamo a creare la nostra giacenza media quindi ci prendiamo questa che è identica la mettiamo qua sotto ci mettiamo al posto di year ci mettiamo media globale e qua al posto di year ci mettiamo running total globale ok questa qua facciamo un invio ormai che ci siamo ce la formattiamo andiamo a vedere il risultato quindi tiriamocela giù qui anche se ha poco senso ma tiriamola giù su entrambe le pivot tiriamo giù qui e la tiriamo giù anche qui andiamo a colorarcela che così non facciamo confusione ed ecco il risultato allora la differenza tra la vecchia giacenza media e la nuova giacenza media qual è? semplicemente che con la nuova giacenza media che è basata sul nuovo modo di calcolare il running total che comunque vediamo che è differente rispetto al precedente se io chiudo gli anni ok vedete che qui c'è una continuità e qui non c'è abbiamo i totali che funzionano sia col nuovo running total che con la giacenza media anche qui abbiamo un totale sulla giacenza media ma è sbagliato non è corretto la giacenza media di periodo di questi tre anni è l'intera selezione del mio running total che abbiamo calcolato qui nel nuovo sistema e vado a calcolarla in una media che è appunto 59.051 ok direi che anche con questo video è tutto se è stato il vostro argomento un bel pollizione in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece vorrete sostenermi in modo molto incesivo per permettermi di continuare a produrre video all'interno del canale magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video potete accedere a un sacco di contenuti riservati agli abbonati agli allegati e quant'altro e questo mi aiuta veramente tanto per portare avanti tutto quanto se invece vorrete supportarmi in altro modo e se siete interessati magari a una VPN io utilizzo CyberGhost in descrizione trovate il link per accedere al sito e procedere con l'acquisto mi trovo veramente molto bene funziona da dio subito sotto c'è un altro link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze e software per esempio se avete bisogno di Windows, Office antivirus o altre cose andate lì vi gestiscono le key attraverso un account vedete tutto in cloud e non perdete mai la chiave funziona molto bene e i prezzi non sono male vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao ciao